Nuova udienza questa mattina in Corte d'Assise a Lanciano per la morte di Anna Maria De Liseo, bidella di 60 anni, morte avvenuta il 15 luglio del 2022 nella sua abitazione, in contrada Iconicella e che vede unico imputato il marito, Aldo Rodolfo Dinunzio, 72 anni, recluso nel carcere di Teramo, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi sono stati sentiti cinque figli, costituiti come parti civili che hanno delineato le figure dei genitori, descrivendo il dinunzio come persona litigiosa, con atteggiamenti verbali violenti, irascibile e la mamma come una donna che amava la famiglia, che viveva per i figli e che negli ultimi mesi di vita era stressata per la situazione che viveva con il marito. Una situazione a volte incontrollabile e peggiorata da quando il dinunzio aveva scelto di candidarsi alle amministrative. I figli sottoscrissero anche una lettera inviata al medico curante per chiedere sostegno. Sentiamo l'avvocato dei figli, Elisabetta Merlino. I ragazzi hanno raccontato il vissuto, quindi il quotidiano, non si sono contraddetti e hanno raccontato di questo padre, padrone per loro stessa definizione. È certo che la proposta accusatoria, chiamiamola così, del PM è robusta e nel corso del dibattimento diciamo che va in quella direzione, però abbiamo da ascoltare ancora i periti che sono fondamentali in questo dibattimento, in questo procedimento e quindi aspettiamo le loro dichiarazioni. Uno dei figli ha anche raccontato che la mamma in un momento di sconforto gli aveva anche confessato di non volercela fare più. È la dichiarazione di una mamma che si rivolge al figlio forse più vicino a livello emotivo e che è un grido d'aiuto, ma abbiamo sentito che poi la mamma non ha né commesso né detto ad altri figli che voleva suicidarsi. La difesa di denunzio affidata agli avvocati Alberto Paone e Nicola De Fuoco ritiene che si tratti di un processo indiziario. L'autopsia non è riuscita a chiarire se si sia trattato di omicidio o suicidio.